Ciao a tutti, io sono Sonia. Perché stiamo guardando là? Sai che stiamo inquadrato le chiappe? Ecco, aspetta. Ok, mi sono girata, mi sono girata. Dicevamo. Ciao a tutti, io sono Sonia e qui con me c'è... Mary! Oddio, stiamo iniziando? Va bene, facciamo iniziando. Abbiamo provato un nuovo gioco e praticamente adesso ci esce il tema, e in questo caso c'è scritto rana, e abbiamo tre minuti di tempo per disegnare. Allora, come faccio a disegnare? Non l'ho ancora capito bene, quindi. Ma è torribile, ma io faccio fatica con il telefono, eh. Ah, sì, con il telefono. Ho il titolo grossissimo, e quindi mi raccomando sempre i voti. Ma io non so quale sarei tu. Quindi, siamo. Come sono le lane? Non lo so. Scusate, ma scusa. Tu sai qual è il problema? Che dobbiamo anche parlare, dovremmo intrattenere, no? Sì. Ma io, siccome sono concentratissima... Io sto provando una nuova tattica, sto provando a andare di colore, e poi a fare tutto a delineare. Perché c'è anche il pennello? Eh? No, questo è troppo grande. C'è anche il pennello, so. Sì, sì, sì. Perché tu con cosa stai facendo? Con la matita? Cosa vuoi stai facendo il pennello? Col pennello? Cosa vuoi fare il pennello? Stai per riempire la tattina, no? Ci vorrebbe la tavoletta grafica. Mi pare un guai. No, va bene, la tattina è perfetta. C'era bellissimo, ma non lo so. No, un problema. Quando faccio queste cose, poi... Diciamo che... Cioè, mi concentro totalmente a... Tipo in questo caso, a disegnare, e non riesco a continuare a parlare. Ma comunque, sono sicura che la mia rama sarà bellissima. Oh mio Dio! Ma il tempo sta finendo! Il tempo sta finendo! Il tempo sta finendo! Na 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 na! No, ho fatto un guaio, vabbè. No, non fa niente. Che guaio? Allora, dopo che finito puoi fare anche un via? Nel frattempo chiacchieriamo più fuori. Sì. È un campo da caccio. Ah, puoi farvi vedere? Questo è il tuo, guarda. Cos'è il mio? Stai vedendo? No, è il tuo cucino. Stai guardando il mio? Il tuo cucino di prima. No. Prima c'era il cucino. Il primo posto. Questo è il computer. L'unica cosa che riesci col tablet è con la penna. Che riesci. Ok. Ah, quindi questo è l'altro. Ok, invio, lo invio il mio, ragazzi. L'ho inviato, vediamo. Vediamo che cosa hanno fatto col tema rana. Ora sono proprio curiosa. Ecco, ho finito. Il mio ha sempre uno. Questo è il tuo? Due. No. Due, vuoto due. Non è tanto il due. Per l'impegno è due, ragazzi. Perché se c'è... Cosa c'è il quarto rana? Oh, che carina. Io non vedo ancora niente. Non vedo niente? Oh, che carinissima. Cinque. Sì, sì, dai. Vedi, l'hai fatto un discontorno. È poi la ripita. Chi? È spiziosa. Vedi? Il mio capisci. Il mio capisci qual è perché ha scritto una cosa. Allora, dimmi una cosa. Ma in mano, che cosa? Una spada o una canna? Una canna da pesca. Sì, io intendevo proprio una canna da pesca. Sì, sì. Vedi, ci sono. Quale era il tuo? No, mi sono scordata di votare il tuo. No, dai. Non è sempre il tuo posto. Non è giusto. Perché non ho votato io, tra l'altro. Se votavo, vincevi. Cioè, eri al terzo posto. Comunque, era il mio quello. Dai. E ti confesso anche un'altra cosa. Mi sono messa qua accanto la foto di una rana. No. Ma io non riesco con il telefono. È bello. Non c'era l'aria façò. C'era una tizia di druida e sembra che c'era l'aria façò. Ah, no. Io pensavo si potesse votare il prossimo tema. Carino comunque, mi piace. Vai, dai. Andiamo. Ok. Qui il drago. Sogno. Sogno. E che cavolo? Che sogno. Vediamo cosa mi esce. Sogno, disegno. Immagini. Ah, ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Ce l'ho, ce l'ho, ragazzi. Ce l'ho. Allora. Dello bravo. Praticamente c'è la faccia di uno che dorme e poi ha una nuvoletta con un sogno. Ma chi lo sa fare? Io ho fatto un guaio. Cos'è la mia chiesa? Lo faccio un guaio. Allora. Ho fatto un guaio. Cosa hai fatto? Ho furito tutta la pagina di un colore. No, però stavo pensando dorme, quindi non devo farlo così. Ragazzi, voi vedete. Allora, facciamo così che sta dormendo. Facciamo il nasino, la boccuccia e come fa? Le orecchie. Io non so più se gli altri. Allora, facciamo così. E facciamo le nuvolette. Sì, infatti poi i zzzzz. Qua facciamo la nuvoletta. E adesso facciamo che sogno. Intanto io facciamo pure zzzzz. Che zetta. Belle comunque l'ho fatta. E qui cosa facciamo? Facciamo che sogna il mare. Allora, aumentiamo il pennello. Tu non mi copiare perché io sto parlando, eh? Lo so che lei mi copia. Mi sta copiando secondo me. Allora, dobbiamo fare la sabbia. Aumentiamo il pennello. Quindi qui facciamo la sabbia. Perché c'è un po' di memoria? Non so se lo scrivo in ma. Lei è la dream. Dreamers. Scusami. Francesca, come hai scritto? Dreamers. Non so, ma c'è un po' di memoria. Se non c'è un certo orario. Eh, un certo orario? Che risuolo, scusami. Perché l'abbiamo detto nello scorso video in realtà. Eh sì. Non qui. Perché adesso è mezzanotte e dieci, tra l'altro. Allora, abbiamo ancora opinato. So che non sembra una palma. Ma è una palma. Allora. Che non sembra una palma. Questa, ragazzi. Voi immaginate che sia una palma. Sì. E facciamo marrone più scuro. Poi ripassiamo col nero. Sta sognando il mare. Adesso facciamo il verde. Pennello fino, fino a fine. Adesso invece mi disegno. Fai finta che stai disegnando questa. Questa cosa la sto disegnando. Quindi. Che cosa stai disegnando? Che cosa stai disegnando? Ma tu lo sai? C'è stato un periodo della mia vita che ero intrippatissima col gioco. Per disegnare praticamente tipo questo. Che, ovviamente, tu iniziavi dei con... No, 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 no. Stai nel tempo. Una battita. 10 minuti. Invia. Invia, invia, corri, invia. Io? Vabbè, si invia da solo. Invia? Dici? Si invia da solo, sì. Allora, vediamo, ragazzi, se si capisce. Ma perché mi avevo il mio disegnato in te ultimo? Ma che cosa? Sì, è bloccata. Allora, voglio far vincere... No, questo è uno, guarda, proprio. Voglio far vincere Mary, quindi voto uno. E ora ti immaginerai il tuo, questo. Che sarà questo? Di chi è bello? Di chi sarà questo? Se sei di sogna. Se sei di sogna. Non basta, Tonio. Oddio. Perché ricadda, se sta capendo? La scuola, questa, la scuola sta arrivando. Ma scusa, sei tu? No, no. Non sei tu. Però, allora gli diamo... Dai, no, volevo dargli quattro e alla fine tre. Che bellino questo. Il mio è sempre l'ultimo. Ma questo è carino. Sì, questo è bello. Questo è bellino. Mi do, io dò cinque. Devo vincere io. Uno, mi vincere io. Allora, io dò quattro, dai. Al tuo, io dò cinque. Questo sei tu? No. Non sei tu. Quanto vuol dire? Guarda, gente è entrata. Allora, due. Anche perché io ne vedo quattro. No, no. Non vincere io. Ah, questo è di Mary, cinque. Vediamo. Vediamo. Sogno, lo vuoi. Ho vinto tre, quindi vedo. Sì. I vincitori sono... No, hai vinto tu! Cioè, aspetta, fammi capire. Io sono arrivata ultima. Ah no, quarta. Ok, io penso odiare. Perfetti. Quale è il tuo? Anzi, sì, quello è la che ho votato cinque. La palma. 12. 12 volte. Oh, quella prima volta sono la prima volta. Basta, ci sono rimaste a male. Frenchy, Frenchy vince sempre, hai visto? Uffa. Good dream. Guarda, possiamo farne un altro. Che dici? Ok, facciamo l'ultimo, magari. Ragazzi, può scrivere sotto nei commenti se vi è piaciuto. Sì, infatti, infatti. Perché è carino comunque come gioco? Mi piace tanto. Senti, poi... Ora devo vincere io per forza, così faccio la copertina. Auto, auto. Oddio, auto. Auto. La macchina dell'auto. La macchina. Il capo. Un pochino. Un pochino. Io faccio... Ok, io faccio le mie ricerche comunque. No, però non è giusto. Oh, un dolore. Allora, io farò questa. Passivo quest'auto. Ancela, non ricordo più come si facevano le auto. Meno male che io ho il computer e posso guardare come referenze. E tra l'altro, aspetta, perché guardo le referenze e non guardo mio figlio Riccardo. Eh, infatti, guarda tuo figlio. Allora, facciamo le volte di un altro colore. Guarda come sono concentrata. Io e la mia voglia... Dio, devo vincere, devo vincere. Devo vincere. No, ma perché devo fare la copertina, capito? Eh, sì, certo. Solo per questo. Non ho senso quello che sto facendo, però... Ok, ero concentrata perché stavo scrivendo. Allora, io sempre più concentrata. No, dobbiamo parlare, ragazzi. Però il fatto è che se io vi racconto che cosa sto facendo, anche se voi lo vedete, Mary ascolta e poi mi copia, capito? Dobbiamo stare sempre attenti. No, no, ma sempre... Ma sì, capisco cosa fare tu. Mary ti copia. Vabbè, allora qua facciamo una sirena. Allora, ora facciamo... Una sirena. Una sirena. La sirena. Sì, la mia è una... Sirena. Una macchina della sirena. No, 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 la sirena. Io gioco con le palle perché io... Quaranta secondi. Sono totalmente brava a disegnare che ho già finito. Hai già finito? No, io ho già... Guarda di vedere il mio bel disegno da prima cosa. Non riesco più a salire. A salire da cosa? Non riesco più a salire da cosa? Sono scesa giù dalle scale qui. No, milla, mi sono scordata. Non riesco più a vedere il mio disegno di prima. Ma, Annie, perché sei fuori? Sei fuori. Perché hai fatto via? Quando mi fai in via, puoi. Fuori, vieni, fuori. Va bene, basta, dai. Ormai è andata, non posso più fare niente. Ecco, vai. Vediamo. Vediamo. Vediamo quella di Sonia. Vediamo, vediamo. Oh, zio, ma cos'è questo? Scusate. Ma non era un'auto? Monica. Uno, mi dispiace perché... Non è un'auto questa. È un fiore. È uscita fuori te. È un fiore. È questa, che carina. Che bella. Ma non so se lo vado a disegnare. Ma tu lo sai che scuola ho fatto? Ma scusa, è un elicot? Ma scusa, ma perché? Non capisco. Ma che problemi c'hanno? Niente, uno, ragazzi. Non perché devo vincere per fare la copertina. No, questa, dai. Questo si è impegnato. Dai, si è impegnato, però. Tre. Almeno ha fatto... No, ma senti. Almeno ha fatto un'auto. Ah, dai, questa è pure carina. Sì, questa vuole la strada. No, questo ho due. Non vedo niente. Questo ho due, però. Vabbè, è bloccato. Oddio, ma non è che è il tuo? Non lo so. Queste sono delle cuffie. Cos'è il tuo cuore? No, non sono delle cuffie. Palle veloce. Hai capito? È un'auto? È un'auto? È un play. Lasciate un like. Lasciate un like. Ma chi è, sei tu? Sì. Cinque, cinque. Oh, non è che vinci tu ora? Lasciate un like. Mary, se vinci tu, mi rubi la copertina? Oh, sì, ho persino. Un'altra seconda. Questa qua sarà lo screen del... Ma scusa, ma il terzo perché non c'è in classifica? Ci siamo solo noi due. Non lo so. No one. Bello. Guarda, devo dire che questo gioco mi piace davvero tanto. Allora, basta. Io esco però perché... Se no ora ci fa giocare. Vabbè, vieni qui, dai. Vieni qua. Dov'è? Dov'è la classifica? Là, là, là. Vieni, vieni. Si può sapere, decidi. Eccoci. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Da me e Mary. Ciao. È tutto. Ciao, ciao. Un pesce. Pesce. Ciao.